Ed ecco qua ragazzi, quello che c'era dentro a pacco, Back to the Future Sports Ammanac, la manacco sportivo di Ritorno al Futuro, con gli eventi sportivi del 1950 agli anni 2000, RIA Sports Score, Sports Ammanac Prop Replica, il libro che si vede nel film Ritorno al Futuro, questa è la replica, prodotto ufficiale Universal, ecco qua, in questo vediamo il laterale, Sports Ammanac Prop Replica, Back to the Future, The Official Grey Sports Ammanac Made in China, Nota Toy, ecco qua, Back to the Future, Doctor Collector, andiamo ad aprire la confezione senza romperla, Ah, si apre così? Come si apre questa? Si, si apre così, così, e poi, come si sfila? Così, così, Dai, io non la voglio rompere, vediamo un po' come si toglie, ed eccola qua ragazzi, Universal Pictures, prodotto ufficiale, ammanacco sportivo, bellissima, e c'è anche un poster, Ah, una busta, eh, from the past, bello, Back to the Future, Ammanac Grace, Sports Ammanac Prop Replica, Ritorno al Futuro, bellissimo ragazzi, vediamo un po' il libro, Grace, ammanacco sportivo, Compiles Los Angeles, guardate qua, Football, Super Bowl, c'è scritto tutto ragazzi, tutto quello che vede Marty McFly, ovvero Michael J. Fox, nel film PBA, US Open, tutti gli eventi sportivi, con i risultati dal 50 agli anni 2000, di Autoresigns, bellissimo ragazzi, e niente, mettetevi piace, commentate, iscrivetevi al canale, e noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti belli!